benvenuti nel milenio io sono pregna de quina da guarda e siamo di nuovo insieme a miro e a peppino il matto nella nostra fantastica carriera allora dicci un po miro intanto saluta bella raga dici che andiamo a fare oggi che non lo so qualcosa succedono cose prima ha fatto delle cose non ho capito bella ragazzi andremo a affrontare l'ascoli che è impegnata in cosa come siamo bianchi oggi vedrà lasciando questo che non penso che interesse a nessuno lasciate dei commenti se vi interessa se siamo bianchi o no ventunesimo l'ascoli quindi ci aspetta una sfida forse facile per noi che siamo secondi ricorda siamo secondi secondi ragazzi ma con peppino il matto come fanno adesso secondo ma io non lo so al talento italiano quindi dobbiamo dobbiamo assolutamente vincere che lì c'è il prosignone che sta scappando via ma soprattutto dietro ragazzi c'è a tre punti nuova diretti iniziali non è bello che è andato promossi serie a ormai non le perde tutte però no ma muore il filo faccio col piedone sul filo sto lasciando questo giochiamo e recuperiamo il frosinone si parte eccoci qua all'arena d'oro ascoli avellino sono tornato sono ricchi arena d'oro basta non faccio più niente guarda che sono tornati pier luigi pardo e stefano fa niente regolato è iniziato col primo episodio quello sta di spalle io sono aumentato gli spagnoli perché e mo ha messo saluto leopardi che saluta le varie non lo guardi si vuole sfruttare aveva detto cambia joystick subito 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 e subito l'ascolo in avanti che cerca un po di metterci un po di pressione piala che stai non lo so io devo ricarburare con fifa non è uno dei miei giochi non è roba mia te l'ha messa sulla testa ma che cosa fai ma non l'ha stoppata ascoli che sicuramente soffrirà i nostri bomberoni la davanti infatti eccoci a caldo riguarda guarda che stopp di peppino devo carburare io vai per parti contro via si è detto che devo carburare carburare va di là ecco 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 è una cosa incredibile che fa davanti al portiere o tiri o paura da questo che cadelli costante che cosa poi speriamo un'invezione di beppino al matto che adesso prende il pallone ma mazza e non fai cadere me lo fai me lo rompi in che senso me lo rompi che è fragile peppino c'è le caviglie deboli abbiamo un po cosa combinare ecco peppino non può se gira il pallone peppino peppino vede bene l'inserimento di non so chi e subito peppino che applaude la tab bravo applaude la tab grande azione che non so chi abbia segnato però ha fatto davvero un grande momento col corpo che ha segnato stengel 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 famosissimo stengel primo quando è scoppato scoppato è scoppato non c'entrata mi concentri mi concentro ecco peppino armato peppino mamma mia si è fatto male attenzione abbia perché bisogna capire si è rialzato intanto la l'avellino gioca ogni volta che costanto no anche con noi di castaldo che si mangia un colla praticamente non da lui visto quanti colpi sta facendo comunque ogni volta che peppino armato sta a terra la venina diventa pericolosa pure l'altra volta castaldo ha segnato dopo che si è fortunato peppino ecco peppino armato bella bella apertura finalmente verrà peppino ha fatto qualcosa attenzione la mette in mezzo dai dai castaldo castaldo capire anche a saldo che la passa a peppino armato peppino armato cerca l'imbucata clamorosa fuori gioco è uscito stengel attenzione castaldo la passa a peppino armato perchè 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 la passi al meglio no ma io la faccio eh ma non va bene deve essere più diattivo questo peppino armato perchè non più diattivo io so io ho caldo corri davanti che qua c'è anche liberazione partita da ardemagni ardemagni dai c'è il peppino dall'altra parte no 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 peppino la parata nel portiere stacco di resta imperuoso è arrivata a casa eccola giorgi che corre felice in un prato oh mamma mia l'ho vista dentro mamma ti stanno bombardando un pochino che cosa fa che cosa hai fatto mi hai bloccato il calciatore lì speravo di passargli l'idea invece l'ho preso in piede passaggi dentro no no se no mi ha la passa ecco qui 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 aiuto 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 perchè dai a giro no una sporata no ma questo è proprio scherzo ragazzi i miei camara io ho detto lasciateci castaldo lasciateci no questo fino a mattone stavo dicendo partita finita finisce qui avellino 1 ascoli niente eccoci qui sfidiamo il trapano in casa speriamo di fare tutt'altra partita trapano papà speriamo di fare lasciamo stare io sono disperato già il terzo video già sono disperato speriamo di fare tutt'altra partita perchè quella è stata davvero brutta tu vedimi non mangiare ancora dire eccoci qua miglior difesa del campionato direi miglior difesa del campionato avellino e prosinone che tra l'altro si stanno ecco qua bello amore mio ecco è matto subito inquadrato già che fai skip sul posto si scalda e possiamo partire è carico sono carico anch'io eccomi e tra pane che è molto più perforabile indirizzo già lo insieme a capire adesso il destro bellissima che colla ha fatto vai peppino abbraccia 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 e sale titanic e niente bucchio gente a casa che colla ha fatto capitano castaldo bello colui che ci sta regalando le migliori soddisfazioni dopo peppino dopo peppino mamma mia che gol che ha fatto peppino un attimo in calo peppino c'ha sonno e c'ha pure caldo lui c'è sta pasquale fazio dall'altra parte no oh 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 no no dai 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 questo che si inserisce ma non quello che sta dall'altra parte del mondo dai peppino tira no ma tira forte e io volevo passare e poi gli aggiosto forte le ciabatte lì forte le ciabatte forti capirà castaldo ancora capirà castaldo si porta tutta la si porta niente si porta al pranzo da casa lui mi penso che gli iscritti calano ci stanno perché tanto di nuovo dai sei 2 a 0 vellino e peppino non fare mai niente bravo dove va peppino tepfani 0 pepino oh guarda se l'ha bingciato a me sembra che stia facendo un'altra cosa azzuzza però non lo voglio dire guardalo che forza c'ha peppino per tenere un uomo così tu non mi tieni mai vabbè passiamo passiamo oltre stenda l'ha sognato ancora attenzione portiere l'avellino adesso gioca più veloce in casa è tutta un'altra storia il trapani è venuto qua molto più aperto dell'ascolo a comprare le mozzarelle sparando strombolate su strombolate e a caldo no ma fa finta di andare avanti è bella però molti presso tutti i mozzarella piazza la vorrei uno che pure l'ho sempre detto pure altro segnalo pure cosa oggi non c'è sto di nuovo tira che ha fatto peppino che voglia ragazzi guarda 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 non posso commentare mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi mi viene debole mamma guarda 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 dove è passato peppino c'è peppino c'è ha detto tira fuori aria mamma mia peppino fuori aria inarrestabile ormai ormai è carico curiale 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 toglietelo toglietelo raga non condividete questo video che se no davvero mi dispiace giuro che mi dispiace tantissimo manca a bevuto io non bevo dico proprio così figurate bella la figura da coppino vai 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 ai nooo la uscita del portiere troppo lunga ragazzi mannaggia coppino però attenzione l'avendio contava molto su di lui e pieno alla calabria attenzione captana tira ammazzato ammazzato sul culo ecco sulle natiche sulle natiche E' un stampo così del pallone Stavo a fare una trappazzuta brutta Mi son fermata Scusa Volevo Qui non va addosso a tutti quelli della squadra Tenta l'approccio come i pesci No, loro non lo sanno Che sono stati i pesci Allora io ho un acquale con delle orande Non mi interessa a nessuno Io ho un acquale con delle orande E' la stagione dell'amore E' quindi c'è un'oranda Che fa un'altra oranda E gli dà le testate sullo stomaco per stimolarla Fa le uova Finisce intanto il primo tempo Meglio di National Geographic Meglio di National Geographic Finisce il primo tempo Ma meno male che finisce il primo tempo Siamo ovvio sudati di Peppino Armato Oddio che caldo e raga Ardemani apri per il Peppino Ma perché sempre Ho messo un po' di Peppino Ok niente sta bene sta bene Preso la palla ho preso che ho da dirlo Non ha fatto un grande intervento E lo so ma Peppino è fragile Non lo sai Facciamo come abilità infortunio facile Ecco attenzione la si è aperto Si è aperto Per il capitano Voglio me la sparano Altissima Che prima ha fatto un gol assurdo Adesso fa un tiracco Peppino Di Luca Peppino 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 E' piazzato Peppino Doppietta 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 di Peppino Doppietta di Peppino Prima doppietta In serie B Doppietta di Peppino Guarda ormai c'era diventata bravissima Pim Visto Pim Piazzata Su assist di Camara L'unima partita La seconda Ti ho detto che dovevo Carburare Carburare Carburizzare Carburare Intanto questi Cercono di fare il gol della bandiera Vuole fare il terzo Peppino Vuole fare il terzo Camaraie A casa sua lo voleva fare Rugby praticamente Meta Terzo Vabbè dai Guarda Fatto E E P Mamma mia De poco dai Oh Pazzagli Tira Dai No Dai Fa tutta una cosa tattica Eh ma è arrivata pienissimo Guarda guarda Tutta tattica E E invece guarda In pieno In pieno Sbagliato lì L'attaccante L'ha ucciso Una fucilata Pagliarulo C'era uscito Pagliarulo Brutta palla Un'uscita Attenzione Sinistro Bella parata Tirato Un'amulice Grandissimo Che ci tiene a tenere La porta inviolata Ancora Tirato Ha parlato Porta inviolata Gol Questo Questo Non capita Solo qui Capita anche Da qualche altra parte Vero pro club Che saluto Sano tutti i miei Ragazzacci Che stanno Sul pro club Con me Ora la taglio Capite che succede Anche qua Peppino Ormatto Anche questo Tutto L'ha visto L'ha visto L'ha visto Allora tira Grande parata Grande parata Bravo Ti piacelli Ragazzi E' un buon portiere Una pesi 4 E' un buon portiere Ah beh D'ha detto così L'avellino ha fatto La prima grande partita Ecco Magico Peppino Era il meglio Ero presa Da Dall'onda Dei gol Stavolta Non prendiamo Gol Basta così Quei gol Stira che sta Aggiungendo al termine Questa sarà Forse l'ultima azione Delle Di recupero I nostri Avversari Ecco Fuori gioco Grandissima Grandissima Ora diranno E finisce qua Migliori in campo Sicuramente Peppino Ma anche il portiere Che è detto così Sembrano Che se in giro Ha fatto due tre Parate Bravo E intanto Sto microfono Oggi guarda E ti ho detto Che il piedone L'autorileva Di alto livello E' il numero 1 Qua riprendiamo L'inquadratura Perché Per il tecnico Da squadra Avellino Ermatto E' il numero 1 Ragazzi Il numero 1 Ma di che cosa Stiamo parlando Sta giocando In maniera incredibile Sapeva che avevo Il potenziale E' sicuramente Anche Inzaghi Sarà Perfettamente ragione Frosinone Che perde Qualche punto Perché Non ci fa Però comunque C'ha la manina Guarda quanto sta 11 punti più Il Pisa dietro Non molla 47 punti Sono tanti Ci può recuperare Ci può recuperare Guarda Con i gol fatti Noi 33 Loro 32 Con subiti Loro 22 Eh Il Pisa sta facendo Una grande stagione Ragazzi Già La serenità Non già sto più giù Snovare la sverona Procuno di meno Ma il Pisa Ci può rubare Il secondo posto E noi non glielo permetteremo E come al solito Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse lasciato Un like Commentate Iscrivetevi Condividete il video Con l'universo E seguitemi su Instagram Perché Instagram è bello E io lo so Che non mi state seguendo Su Instagram Vi vedo Lo so che non mi seguite E non va bene Vero che non va bene? Non va bene Dovete seguirla assolutamente Su Instagram Metto un sacco di foto Di cani e di gatti Cioè Ma Perché non mi seguite? Allora Incentivi la gente A metterla Io mi aspetto qui Insieme a Miro E insieme a Peppino Il matto Nel mio piccolo regno In un prossimo video Niao Devi dire niao Niao Perfetto